Ciao, sono Camilla e stiamo filmando da Monteveglio, filmeremo il sartore. Sì, è anche l'osso e l'ara. E' quel puntino là giù rosso. Sì, che tra un po' arriva qua vicino e la vediamo direttamente bello. Ci troviamo nell'olto dell'albergo, come potete vedere, c'è l'insalata, le cipolle, le melanzane, i peperoni, i pomodori. I pomodori, il cetriolo, i fagiolini e infine i zucchetti. E' una splendida litte. Qui potete vedere che ha un cacco e litte ha una cacassiera. Abbiamo anche la betoniera, l'amaca e le macchine. Tutto questo è nel giardino dell'albergo. Sono Giacomo. E quella è una mora nera, l'ha trovata lui nel cespuglio. E siamo andati nell'orto e abbiamo visto le viti e tutti gli ortaggi. Sono Camilla e vi volevo parlare adesso dei giochi che questo albergo richiene. C'è il tappeto elastico. C'è due macchine, due casette, un sacco di palloni. Io sono Camilla. Io sono Giacomo. Vi aspettiamo al nostro albergo. Ciao! Ciao!